Noi stiamo facendo una battaglia abbastanza impegnativa, scenderemo in piazza a ottobre, c'è una discussione ora in Parlamento, c'è la necessità di mettere ordine sulle politiche contrattuali, su stabilire chi ha la certificazione per poter firmare contratti collettivi nazionali e togliere di mezzo tutti i contratti che abbassano diritto e salario. Quello è il punto di partenza per il nostro salario minimo, cioè l'applicazione dei contratti legittimi, la legittimità dei contratti lo dà il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ma soprattutto anche i fatti che le organizzazioni sindacali sottopongono al voto certificato le intese del raggiungimento delle firme dei contratti collettivi nazionali, quindi dentro a percorsi di partecipazione attiva. Il salario minimo deve essere un salario che tiene conto però non solo della parte retributiva, ma anche tutti degli elementi di retribuzione che sono afferenti, dalle ferie, il diritto alla mutua, il diritto alle ferie e quindi tutto quello che fa parte anche di salario accessorio. Quindi per noi l'idea di salario minimo è l'applicazione dei contratti collettivi nazionali legittimi come base di partenza.